A sostenere ancora una volta la rassegna culturale Story Riders e SICME Energy e Gas, a rappresentarla a Torchiara durante la cerimonia di premiazione del concorso Common People, che quest'anno ha dedicato una sezione proprio al tema dell'energia, è stata la responsabile commerciale, la dottoressa Bianca Pierri Cecaro. È il secondo anno che la SICME affianca questa iniziativa, un'iniziativa lodevole per il nostro cilento, e quindi la SICME ha voluto assolutamente accompagnare la stessa e questi racconti che sono stati scritti sull'energia sono veramente straordinari e la SICME ne farà tesoro nel raccoglierli e nel tenerli con sé. Il tema di questa edizione era proprio l'ambiente, l'importanza delle tematiche legate all'ambiente e alla necessità di difendere e valorizzare allo stesso tempo i nostri territori. Assolutamente, infatti la SICME conta di portare avanti un percorso per quanto riguarda la mobilità elettrica nel rispetto dell'ambiente e della natura ed è un progetto che noi ci auguriamo di sviluppare, che già abbiamo iniziato in alcune zone qui vicino, nella vicina Capaccio, nella stessa Agropoli e pensiamo appunto di poterlo realizzare in tutto l'area del Parco Nazionale del Cilento. I racconti dei vincitori, ma anche di tutti gli altri partecipanti, confluiranno poi in un volume che sarà promosso e sostenuto proprio dalla SICME Energy & Gas.